Il sequestro riguarda beni per circa 3 milioni di euro tra aziende operanti nel settore del commercio, riciclaggio della plastica, un immobile, parco auto e un motociclo, tutti riconducibili a un imprenditore del Ragusano ritenuto vicino al clan carbonaro dominante della Stida. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Catania su richiesta congiunta della Procura Distrettuale Etnea e del direttore della DIA, dopo l'arresto dell'imprenditore. Per gli investigatori, infatti, si sarebbe avvalso degli uomini della Cosca per intimidire i coltivatori del Ragusano e imporre il monopolio per il conferimento dei rifiuti plastici impiegati in agricoltura, specie la raccolta del pesante materiale da smaltire delle serre dismesse. Una fedina penale, quella dell'imprenditore, attualmente coinvolto anche in altre inchieste della Procura di Caltanissetta, macchiata pure da una condanna per traffico di stupefacenti.